Incominciamo a ripercorrere con le immagini e col servizio che abbiamo realizzato questa mattina quanto è accaduto a cominciare dalle 19 di ieri sera e che è durato fin tutta questa mattina alle prime luci dell'alba. Vediamo che cosa è successo. Non è sicuramente stata una tempesta perfetta quella che si è verificata dalla tarda serata di ieri fino alle prime luci dell'alba di oggi ma sicuramente una combinazione di eventi che sommati tra loro hanno causato notevoli danni in tutto il nostro litorale. Una mareggiata da Levante con mare forza 5 e onde alte oltre 1,80 m combinata alla più alta alta marea della stagione il cui picco è stato raggiunto attorno alle ore 23 hanno, assieme ad un vento di garbino, creato quello che i marinai chiamano la gulfata. Così metri e metri di arenile sono stati divorati dal mare e le prime file degli ombrelloni questa mattina non c'erano più e quelle rimaste erano praticamente seppellite sotto la sabbia o la ghiaia. Io ho 37 anni che faccio questo lavoro, è la prima volta che esce fuori una cosa così però incide molto anche il fatto delle scogliere che purtroppo non funzionano più sono caduti i massi, le bocche d'acqua, ci sono 7 metri d'acqua dove sono le uscite. Quante file vi ha portato via? Quattro file di ombrelloni, ieri sera siamo stati qua fino alle 11 a tirar via tutti i ombrelloni, i lettini e tutto quanto abbiamo salvato tutto almeno spero, però è il disagio. Sono qui da stamattina alle 4 e mezza, con Ruspista abbiamo cercato di rimettere a posto il possibile però mancano 40 cm di spiaggia su fronte ai mari di 120, ma non è il problema solo il mio ma anche dei miei confinanti che abbiamo tutti questo casotto. Allora qui il mare ha agito in maniera più incisiva, vi ha portato via migliaia e migliaia di metri cubi di spiaggia? Di ghiaia, di velto, portato via due file di ombrelloni e tantissimi lettini, centinaia di lettini tutti da lavare, da sistemare ma soprattutto il danno maggiore è questa mancanza di spiaggia, di ghiaia. Io avevo già previsto e anticipato precedentemente questo problema perché vedevo che il mare avanzava a mare calmo. Io fino a stanotte alle 2 sono stato qui dopo il mare calmato, a mano a mano che mi portava via la ghiaia io prendevo i ombrelloni e me li portavo su in sicurezza diciamo. Adesso cosa ci vuole per ripristinare lo stato iniziale? Insomma qui c'è una fossa praticamente davanti ai tuoi bagni. Qui abbiamo un metro e mezzo di dislivello di ghiaia per 20 metri. Purtroppo qua bisogna aspettare che il mare un pochino ce la dia, ce la restituisca con delle ruspe, tutto a spese nostra ovviamente perché qua è la concessione. Ripristinare è il meglio possibile però i clienti dovrebbero avere tanta pazienza perché non è una cosa che si fa in un giorno. Allora qui i problemi per la prima fila, insomma il mare ha portato via un bel pezzo di spiaggia? Ha portato via da qui e ha buttato tutto sugli ombrelloni e quindi gli ombrelloni si sono abbassati soprattutto la prima fila è sotto la ghiaia. Vediamo adesso come va queste giornate e poi staremo a vedere perché poi toccherà chiamare la ruspa a spianare la spiaggia però prima bisogna togliere tutta la prima fila, spianare, rifare i buchi e rimettere giù gli ombrelloni quindi il lavoro che è stato fatto all'inizio della stagione è ripeterlo a inizio stagione con la gente che magari si lamenta, preoccupata eccetera insomma è una cosa che non ci voleva però siamo disposti a fare anche questo per il cliente, per i turisti. Ancora però la situazione non è stabile quindi bisogna aspettare un po' che tiro, bisogna avere un po' di pazienza. Notta in sonne quindi per Abagnini e gestori a monitorare il mare e la sua forza e come sempre il giorno dopo si fa la conta dei danni. Giuliani allora una mareggiata di portata eccezionale quella che si è verificata nelle ultime ore? Sì è stato un evento di eccezionale portata tenuto conto che siamo in estate, mai si era verificato un evento così, purtroppo il mare di Levante non perdona e praticamente sono state flagellate tutte le spiagge di Fano e di Marotta, anche quelle che non erano soggette ad erosione. Gli operatori si stanno rimboccando le maniche e noi da parte nostra come Osi e Confattigianato abbiamo chiesto un incontro urgente ai sindaci di Fano e di Mondolfo per condividere e concertare un piano di azione che si è finalizzato a ripristinare gli arenili utilizzando i fondi della regione perché la regione quest'anno ha tardato ad emanare decreti di assegnazione delle risorse ma stanno arrivando i soldi. B a garantire l'immediata pulizia delle spiagge interessando e sollecitando soprattutto l'ASET, la multiservizio ifanese, sollecitando quindi l'ASET a raccogliere la legna e il materiale è spiaggiato. Ci si rimbocca le maniche per ripristinare il tutto cercando di parare un po' il colpo con i clienti ma per alcuni i danni potevano essere anche maggiori se non era per le nuove scogliere che si stanno posizionando come ai bagni Sergio. Sì effettivamente c'è stato un mare molto forte, un Forza 5 direi con delle onde alte un metro e mezzo che hanno creato abbastanza danni. Devo dire la verità, sono contenta ugualmente perché senza la realizzazione di queste scogliere la spiaggia non ci sarebbe stata stamattina. Siamo stati qui a monitorare tutta la notte, diciamo che il mare è arrivato fino in prima e seconda fila da noi, nel tratto corrispondente alla realizzazione delle scogliere diciamo che il danno è stato molto minore e quindi ho lottato tanto per la realizzazione di queste scogliere e non vedo l'ora che arriva a settembre per vederle proprio realizzate per vedere anche Viale Ruggeri protetta e sono contenta che sono stati appaltati altri 900.000 euro per realizzare scogliere che vanno poi da qui verso il Rastat a protezione anche delle altre spiagge. Spero che in futuro queste mareggiate che vedo che così forti capitano spesso mentre anni addietro capitavano raramente, adesso sono sempre più frequenti, creano sempre tanti danni, in piena estate è disdicevole perché poi i turisti che arrivano trovano una situazione di questo genere e non è molto bello accoglierli in queste situazioni. Rimettere a posto velocemente non è facile, insomma quindi qualche giorno ci vuole e quindi spero che le scogliere vengano realizzate al più presto possibile e che portino il beneficio che devono. E ieri sera la nostra troupe con Marco Ferri si è recata proprio in Viale Ruggeri per constatare quanto il mare aveva causato con la sua mareggiata. Vediamo le interviste e quello che è successo ieri. Sono le 21.45, il mare continua ad essere molto mosso, siamo su Viale Ruggeri che si presenta più o meno come al solito quando ci sono le mareggiate, anche se questa volta probabilmente attenuate nei danni anche per le scogliere che sono state installate qualche settimana fa. E nonostante il maltempo, nonostante il mare mosso c'è chi con passione, temerario continua a pescare. Sì, sì, dei temerari, ci proviamo in tutti i modi. Il mare è molto mosso, stasera mi sa che la pesca va male, siamo fortunati se proprio prende qualcosa. Se no solitamente che cosa si pesca qua? Qualche mormora, se capita anche un'orata, se capita anche una spigola magari proprio. Non è solo, vedo, ci sono anche tanti altri colleghi. Anche altri, sì, sì. E qualcuno sta anche tutta la notte, è vero? C'è chi sta anche tutta la notte, stasera credo di no, però qualche volta quando c'è anche il mare calmo c'è chi sta anche tutta la notte. Che mare è questo? Il mare da Levante, Levante proprio, non è Bora, non è scirocco, è Levante, è quello che mette più paura. Perché mette più paura? Perché c'ha forza, non fa chiasso, non lo senti, non è come la Bora che fa... Questo viene da lontano e porta su e questo corre più dell'altro, questo è un mare potente e questo lo devono fermare a largo, non gli scogli qui, qui non servono a niente. Quelli che hanno messo là le devono alzare come stanno facendo, ma lo dovevano fare vent'anni fa, non adesso. Comunque sta reggendo mi pare, no? Sì, adesso, a parte che c'è il pennello laggiù che vuol dire quel pennello che spezza la corrente che viene su, però l'importante è fermarlo a largo, non qui. Il mare qui ormai è arrivato. Queste nuove scogliere che hanno messo, stanno servendo? Almeno sembra lassù, davanti ai Bagni Sergio, che qualcosa ha funzionato, perché penso che se non c'era... Ma i Bagni Sergio comunque abbiamo fatto vedere ieri sera nel telegiornale, insomma, non era un granchetto. Può darsi che se non c'erano quelle arrivava sul lungomare il mare, eh? Penso. Questo è strano, no, è veramente strano, perché è grosso, non ho mai visto un mare così in questi periodi.